Quando ero bambina andavo da mia zia ed era una babele. Da una parte c'era l'entrata via della Torre 16 con un cortile, dall'altra parte era via Boiardo, 11 con due cortili. Entrambi i cortili erano a forma quadrata, mi sembra fossero quattro piani. Ai quattro angoli di ogni piano c'era un gabinetto che doveva servire per tutti gli abitanti di quel pezzo, che potevano essere sei, sette famiglie. Ed era soprattutto quando pioveva, quando c'era occupato, dovevi fare tutto il giro. Allora io per andare da mia zia dovevo passare un lato e poi un altro e c'erano a quei tempi, io sono nata nel 47, quindi diciamo negli anni 55, c'erano i primi arrivi dal meridione e esisteva la stessa dinamica di adesso. Quindi sette, otto, dieci ragazzi in un locale e tutti che si stupivano, ah ma quelli lì, quelli lì, però era così.